e ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi su questo nuovo video benvenuti su kali linux questa volta ragazzi andiamo a vedere qualcosa di veramente molto molto interessante secondo me lo utilizzerete subito dopo che abbiamo visto cosa fare un programma che si chiama oh my posh oh my posh è uno strumento di personalizzazione per la shell dei terminali su linux ma attenzione anche su altre piattaforme quindi se avete macintosh se avete windows e altre piattaforme rimanete sintonizzati perché questo programma vi fa andiamo a vedere come si installa ma è fruibile da vari sistemi operativi e da vari shell veramente multi piattaforma molto molto interessante ma attenzione prima di andare ad esplorare che cos'è questo oh my posh vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate pollice in su e non vi dimenticate di condividere il più possibile questo video ma adesso direi parliamo un attimino di oh my posh che cos'è oh my posh è come dicevo prima uno strumento di personalizzazione per la shell dei terminali e consente di creare dei prompt altamente configurabili e molto molto attraenti devo dire molto belli per diversificare e finalizzare la shell in modo veramente molto particolare funziona sotto varie shell come bash come zsh quindi zshell powershell fish ce ne sono anche tante altre quando andiamo a vedere il sito ufficiale utilizza diciamo una varietà di segmenti per visualizzare informazioni utile come il nome del branch gith che ne so le cose più assurde lo stato della batteria il percorso corrente e molto altro veramente molto customizzabile molto personalizzabile è noto infatti proprio per la sua flessibilità e la capacità proprio di migliorare quella che è l'esperienza dell'utente nel terminale diventa tutto molto più colorato più bello più visibile più immediato ed è questo è molto molto importante diamo che rende il prompt informativo e visivamente molto molto accattivante ma adesso bando alle ciance andiamo a vedere di cosa si tratta come al solito ragazzi vi lascio in descrizione il sito ufficiale che questo praticamente come vedete qui c'è già un'anteprima del praticamente del prompt dei comandi personalizzato come molto molto carino molto colorato ci dice che siamo nella main ci dice che siamo sotto la z shell e sono le 13 e 50 questo è un piccolo esempio ci sono veramente molto molte cose da vedere da fare come vi dicevo prima l'installazione dopo la andiamo a vedere lo potete fare per windows funziona con mac funziona con linux e veramente hanno hanno pensato veramente a tante tante cose c'è la possibilità di customizzabile quindi i prompt sono completamente non solo configurabili puoi personalizzare creare da zero come ti pare perché c'è un linguaggio proprio proprietario è una cosa veramente incredibile ci sono anche una parte dei temi praticamente una volta installato poi andiamo a vedere anche come si fa a prendere un prompt di qualcun altro che già l'ha fatto insomma la community su questo sta lavorando tanto quindi è anche facile immattersi un prompt veramente particolare voi decidete di utilizzarlo scaricate già tutto fatto e lo utilizzate molto 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 bello il sempre descrizione trovate praticamente il la la pagina principale dove andiamo adesso a prendere i dati per poterlo installare perché diciamo non era proprio immediato ho deciso di fare questa piccola guida perché diciamo è vero che sul sito è spiegato cioè quindi se andiamo su linux in effetti facciamo quello che c'è specificato qui però è meglio vederlo passo passo perché qualche potevano farne forse un pochino meglio non vuole essere una critica però diciamo per amore del cielo lo seguiamo passo passo come facciamo sempre non è che la cosa più semplice andiamo subito a vedere come si installa quindi passiamo subito alla nostra al nostro terminale benissimo c'è un pochino uno schermo più grande così non mi dite che non si vede è impossibile neanche un cercato allora la prima cosa da fare vediamo dove siamo dobbiamo crearci ci suggerisce una directory di mettere questo eseguibile questo eseguibile o mai posh in una directory nella directory bin io non voglio mettere in quella di sistema quindi ne creo e ve lo consiglio mk dir di creare una directory praticamente bin ok la voglio creare la creo nel mio profilo cali quindi andiamo per lmn ra abbiamo praticamente la nostra directory bin appena creata vediamo un attimino se dove l'abbiamo messa ed eccola qui perfetto va bene ok quindi c'è tutto benissimo adesso entriamo nella directory bin direi ok e non ci resta che andare a copiare praticamente il comando che ci suggerisce lui ok qui praticamente voleva che io l'installassino in quella di sistema no voglio utilizzare questo quindi copo copio praticamente questo questa riga che praticamente prende ci scarica in sostanza questa mini installazione dell'eseguibile se non sbaglio adesso andiamo a vedere quindi copiamo incollare senza fare niente niente di difficile copiamo incolliamo nella il simboletto ricordo giusto per chi ne conosce bene questo simboletto sta per dire la home quindi stiamo lo stiamo facendo nella directory home cali nella directory bin quindi quella che abbiamo praticamente copiato infatti adesso lo sta copiando ed ecco qui vediamo un attimino se ha scaricato qualcosa di tutto eccolo qui questo è il nostro eseguibile molto molto bene ovviamente questo eseguibile per poterlo rendere disponibile per tutta la macchina dobbiamo dichiarare praticamente il percorso dove l'abbiamo messo infatti noi ci troviamo su praticamente nella home cal bin quindi dobbiamo fare praticamente un export di del del pat quindi andiamo ad aggiungere al pat corrente questa variabile s pat cioè tutto ciò che esiste già come come predefinito ci andiamo ad aggiungere due punti il nuovo percorso home cal bin che manca a farla apposta poi c'è come con mai posh ok lo facciamo molto bene quindi che significa che adesso possiamo lanciare da ogni dove infatti andiamo nella directory ok home cali non da bin e praticamente scrivendo o mai posh magari version dovrebbe funzionare vediamo un attimino ecco ci dice che la versione 21 3.0 ok quindi praticamente adesso lo agganciamo ovunque ci troviamo questa è una cosa molto importante perché poi andremo a vederlo anche come renderlo sempre disponibile per questo account perché ovviamente per ogni account dovete andare a dichiarare a configurarlo nei file di sistema benissimo fatto questo adesso andiamo a installare dei font perché questo questo prompt utilizza può utilizzare vari font particolari però la cosa bella che puoi gestire direttamente dal programma quindi facciamo sempre un my posh benissimo facciamo font install ragazzi non vi preoccupate io vi metterò tutti i comandi descrizione dovete soltanto copiare incollare quindi ok font install prima mi invio adesso c'è uno scaricamento dei font disponibili aspettiamo un pochino dovrebbe scaricare ecco allora quelli che dobbiamo installare quelli che io suggerisco per una cosa del tutto personale però mi trovo molto bene perché viene fuori a chi piace un terminale tipo di caratteri tipo molto che fanno molto hacker diciamo quindi allora big blue terminal allora viene selezionato con il momento col cursore poi quando scegliete praticamente il questo big blue terminal premete invio e inizia a scaricare questo font e lo installa ripeto la cosa quindi uno l'abbiamo installato big blue terminal ve li metto anche questo in descrizione il secondo è droid se non sbaglio che era molto bello io poi ci ho perso un sacco di tempo ok droid sans mono questo qui ragazzi droid sans mono invio scarica anche questo bene poi ripetiamo lo stesso comando e scegliamo qualcos'altro andiamo sull'acca c'è haskling se non sbaglio che bellissimo se andiamo in ordine alfabetico un po se f c'è una mirina di haskli eccolo qui è anche questo quindi haskling e hack andiamo per ordine facciamo prima haskling ok e poi saliamo che hack sta per hacking quindi e questi caratteri ti dà la possibilità di avere veramente cose di creare un progetto secondo me è fantastico ok ripetiamo stesso comando questo è il quarto voglio installare hack fatto questo abbiamo tutto pronto andiamo sempre sulla letra h scorriamo giù scorriamo giù eccolo qui ha invio premiamo anche su hack e ha installato quindi ci abbiamo veramente tutto a disposizione i font l'abbiamo installati benissimo ragazzi e adesso non ci resta che fa partire il tutto abbiamo caricato i font quindi andiamo un attimo giusto per seguire tutto dal loro sito perché sono veramente molto molto precisi abbiamo fatto l'installazione tutto bene ok i font se volete qualche altra informazione c'è dichiarato tutto come si può personalizzare dove li trovate ci sono varie varie librerie anche come si è possibile farlo ok andiamo sul prompt abbiamo come vedete tutte e i prompt disponibili e compatibili con oh my gosh oh my gosh oh my posh scusate e praticamente bash cmd evil fish neu powershell tcsh alcuni non li so xons e anche zsh io sto usando zsh quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere praticamente questo comando lo copiamo ok e lo praticamente facciamo funzionare nella nostra nella nostra scelta ok ripuliamo il tutto incolliamo il nostro comando che non fa altro che fa partire un my posh in modo inizialation z sh e dovrebbe praticamente funzionare ed eccolo qui signori è molto molto carino attenzione abbiamo ci sono dei caratteri che non mi piacciono vedete questi punti interrogativi capita quando perché abbiamo installato al volo praticamente la i fonti in questa finestra noi cosa facciamo la chiudiamo chiudiamo questa finestra la riapriamo ovviamente ragazzi ci siamo versi un po quella che era la configurazione dobbiamo andarla riprendere perché abbiamo fatto un export della variabile altrimenti non si aggancia e non funzionerà praticamente quindi che poi ragazzi dopo andiamo a eccola questa era l'export che dobbiamo fare la variabile aggiungere la variabile dove c'è il bin dopo lo rendiamo definitivo andiamo praticamente a scrivere questa questa variabile export l'andiamo a definire dentro il punto zsh rc che sarebbe il file di configurazione di zsh ovviamente se usate bash dovete farlo solo per quanto riguarda bash allora perfetto quindi andiamo incollare di nuovo il solito comando abbiamo visto prima e adesso secondo me o adesso è tutta un'altra storia come immaginavo è un'altra storia guardate che meraviglia il questo prompt veramente fatto in questo modo con ti dice zsh e sono le sedici e tredici accidenti si è fatto pure da va bene quindi pvd siamo dentro cali se vogliamo possiamo andare dentro che ne so dentro la directory documenti che per farvi vedere guardate come viene definito bene cale documenti e se non sbaglio se scrivi male qualcosa guardate vi segnala anche che avete scritto una cretinata cambia il proprio dice quella x rossa ma che stai scrivendo no ragazzi c'è veramente da uscire fuori di testa si possono fare veramente molte cose allora prima di lasciarvi però voglio innanzitutto andare a modificare il file di configurazione secondo me così è un po troppo grande voglio farvi vedere come possiamo perché questo perché se lo chiudo ragazzi ovviamente lo riapro e non funziona quindi dobbiamo andare a editare nel mio caso che è z shell andiamo a fare dove siamo dentro cali io penso che vada proprio bene sai facciamo così usiamo il nano z sh rc sempre col punto perché è invisibile questo questo dato ok andiamo in fondo a tutto e per fare le cose fighe si dovrebbe mettere vabbè qui c'è anche una cosa che ho fatto io per quanto riguarda quando facciamo i video di bandit quindi personalizzazione o mai posh ok ok qui ci vado a dichiarare adesso le variabili ok quindi shift insert ci vado a mettere export path aggiungo un cali bin doveva prendere proprio l'eseguibile o mai posh e uno l'abbiamo fatto molto bene perfetto l'altra cosa che dobbiamo fare è inserire il comando eval o mai posh inizializzazione z sh ok controllo o scusate ho sbagliato controllo invio lo salvo controllo x esco ok fatto questo quando esco adesso lo riapro dovrebbe finalmente aprirsi con la mia nuova il mio nuovo prompt super fighissimo direi veramente molto molto bene molto bene e qui potremmo chiudere il video ma attenzione mettiamo qualcosa di carino perché chi come me non si accontenta mai è incontentabile direi ok questo prompt non mi piace voglio vedere qualche altra cosa qui abbiamo il mondo abbiamo praticamente il mondo c'è la possibilità di come vedete qui della sezione temi e ve la facevo vedere prima se non sbaglio qui possiamo scegliere tante altre possibilità per esempio ne scegliamo uno che sia totalmente diverso rispetto a quello che ho cosa possiamo fare questo mi piace moltissimo questi effetti sfumati cert si chiama allora la questione qual è cosa dobbiamo fare allora prima cosa dobbiamo allora qui vediamo un attimino dove siamo perché così ok dentro cali qui andiamo a utilizzare un comando ve lo lascio in descrizione giusto per scaricare dal sito principale praticamente tutto quello che è posh temes quindi vi scarica un attimino se non sbaglio tutta la directory con i temi all'interno quindi abbiamo ho mai posh temes eccolo scusate quindi ho scaricato solo solo quello che mi serviva ragazzi posh temes ok e qui dentro c'è praticamente temi eccolo temes ok ls meno lra vediamo un attimino ok tutti questi file punto json come vedete sono i file di configurazione relativi al nostro prompt per esempio come guida usiamo sempre il sito e ragazzi voglio installare questo cert come faccio praticamente sulla linea di comando e ovviamente poi una volta che avete scelto lo andate a mettere nel file di configurazione quello che ho modificato io punto zsh rc lo andate a mettere lì dentro ovviamente quindi scriviamo questo comando e lo trovate sempre in descrizione dove ci dice sempre utilizzo mai posh in zsh preo prendi la configurazione da dove abbiamo scaricato abbiamo scaricato scusate posh temes dentro la cartella temes cert punto m punto json premiamo e attenzione è cambiato il nostro prompt in un modo totalmente diverso guardate che grandissima figata questo porta all'orario addirittura quindi ragazzi c'è veramente da da perderci tempo e la testa tra l'altro ognuno di questo c'è sono praticamente il punto json è praticamente editabile cioè voi se fate così nano incolla e conoscete mettete a perdere tempo potete cambiare colore potete fare tutto potete aggiungere nuovi dati partendo da un qualcosa che già è stato fatto quindi avete già la strada spianata oh my posh è veramente molto molto bello spero di esservi stati utili per abbellire quello che il vostro ambiente di lavoro rendiamolo strafigo perché voi ci state dalla mattina alla sera allora vi deve piacere deve essere bello deve essere intuitivo deve essere parlante con questo è veramente tutto grazie di essere stati qui ciao al prossimo video ciao ciao